ciao a tutti oggi vorrei parlarvi delle take folder del comping e anche di come fare delle take folder da take preesistenti allora innanzitutto cosa servono take folder servono a fare in modo che io vada in registrazione e possa permettermi di fare in loop più take di registrazioni senza interrompere tutte le volte la registrazione ed è molto utile ad esempio se devo improvvisare che ne sono assolo di chitarra e voglio fare più take di assolo di chitarre magari puoi assemblare che ne sono la prima parte con la seconda la prima frase del terzo take con la prima fra con l'ultima frase del quarto oppure immaginate la situazione in cui avete un cantante in studio magari non non proprio professionale oppure un po un po timido che quindi si si intimorisce all'idea di aver davanti un fonico e un microfono che che non ha mai visto e anche delle cuffie e quindi può succedere che lo si nervosisca ancora di più se tutte le volte che sbaglia si preme stop è meglio farli fare della registrazione in loop e lo si mette così comodamente a proprio agio e li si dice non preoccuparti andremo poi a sistemare le parti dopo allora innanzitutto per fare le take folder dobbiamo abilitarlo sotto le preference recording sotto audio ciclo off e ciclo on deve essere abilitato take folder e facendo così io semplicemente con il ciclo on o ciclo off non è importante adesso vado a registrare la mia voce tolgo il trono torno il preconteggio giusto per provare registro la mia voce ed ecco qua immaginate che sia io che sono un cantante stoppo se io ci registro sopra ecco che sto creando già una take folder che sarà poi compabile diciamo dove potrò farci il comp vado a cancellare questa cosa qua perché a me viene molto più utile andare a vedere i colori diversi per le diverse take vado su file project setting recording allow auto scusatemi automaticly colorize takes faccio un ciclo di due misure giusto per provare vado in registrazione ed ecco che adesso ogni volta che mi creerà una nuova take la nuova take avrà un colore diverso e questo sarà molto comodo perché mi permetterà poi di fare comodamente editing dopo con l'aiuto dei colori ecco questo come vedete è una è una è una take folder ora io precedentemente grazie al nostro amico carlos il bassista delle del libro e saluto ciao carlos come stai qua abbiamo una take folder con il nostro amico carlos che aveva registrato il basso il basso che sta suonando in questo momento qua è la take uno ed è gialla ed è quella che vediamo qua sopra in alto quella in alto non è una take è una comp ovvero cosa sta suonando in questo momento quindi avremo solo quattro take e qua in alto abbiamo la complessiva ovviamente il tutto deve essere registrato a click e una volta che io c'ho la comp bene a click posso andare a selezionare con questo quick swipe comp le parti che mi interessano ed ecco che le avrò evidenziate la sopra e questo mi permette di togliere ad esempio difetti di questo tipo che io basta che faccio così basta che seleziono questa parte ed ecco che sopra suonerà soltanto ciò che mi interessa posso andare di fino con control option e sopra avrò una comp a che io posso rinominare la chiamo good e una volta che c'ho good a posto posso provare a fare un'altra take ad esempio vado sulla take 2 faccio un'altra prova ecco che il comp adesso diventa la b e la chiamo sorso ora potrebbe essere che è tutto buono ma sta qua ad esempio è leggermente fuori tempo allora dal momento che io quando voglio spostare qua non posso più perché questo qua non è più un puntatore normale ma un tool apposta per le take folder posso disabilitare questo puntatore cliccando su questi simboli qua ed ecco che la mia take adesso è slegata e posso spostare e mettere dove voglio io la regione cosicché la posso slegare ed ecco che ho creato adesso sto creando sono sempre nella b ne creo una nuova vado a creare che ne so la c e una volta che sono contento del risultato ho tre tre strade o chiudo il triangolo oppure posso fare il flatten che mi fa vedere il complessivo soltanto nelle regioni scelte oppure il flatten and merge che mi fa proprio un nuovo file audio se io vado qua avrò proprio un nuovo file audio appena creato quindi è tutto molto molto comodo bisogna farsi un po' di pratica però veramente veramente comodo e la cosa bella è che logic in automatico mette già qua dei 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 flag dei scusate dei fade quindi veramente suona molto bene e funziona molto bene ma cosa succede se noi avessimo invece non conoscessimo non avessimo conosciuto questa funzione avessimo invece avuto tre take pre registrate in una situazione di questo tipo possiamo anche queste per fare la scelta della take migliore farla diventare delle take folder basta che io seleziono le tre regioni vado su function folder pack take folder ed ecco che me l'ha compattata in una take folder comoda per farci editing adesso per comodità le vado a colorare anche queste tutte diverse partimi da questa option c stiamo la fai viola questa me la fai gialla e adesso vado a fare l'editing che mi interessa andando poi di fino ecco qua benissimo qua la faccio qua andiamo a vedere qua cosa ho combinato qua sicuramente meglio qua anzi ancora meglio qua e poi posso posso anche volendo esportare le active comp to new track ed ecco che questa è una nuova traccia solo con le active comp oppure posso fare l'unpacked new track alternative oppure come abbiamo fatto prima flatten emerge nuovo file audio ed ecco la risultante c'è molto con cui giocare in questa in questa cosa in questa overview sulle take folder è una tecnica molto molto interessante immaginate il rapper che vuole improvvisare come ho già detto prima il tizio che vuole fare la solo di chitarra ma anche è anche buono per trovare nuove delle parti magari perché vogliamo vogliamo creare delle nuove situazioni anche col piano e non ci viene subito mettiamo in loop la sezione registriamo fin quando non ci viene qualcosa di buono e poi possiamo serenamente fare un collage con command z avete visto sono potuto tornare indietro faccio un collage fra le varie take si fa l'ho fatto fino a 40 50 take non è un problema fatelo fin quando non vi viene e nel caso che abbiate un cantante particolarmente timido diteli adesso io me ne esco a fumarmi una sigaretta o bebermi un caffè te registra serenamente quando ti viene qualcosa che ritiene molto buono premi la barra spazzatrice e dopo la sistemiamo insieme ciao a tutti buona giornata e a presto ciao ciao